Come capire se c'è interesse in chat? Ok, guarda e leggi le ultime 3-4 conversazioni che hai avuto su Tinder, su Messenger, quindi non interessate perché magari poi non è successo niente. Come erano le ragazze? Ok? Vano sillabiche, parlavano poco, facevano cadere l'argomento, rispondevano con pochissima roba, erano fredde, mettevano poche emoticon. Ok. Dall'altra parte, una ragazza interessata fa tutto il contrario rispetto a quelle che hai visto su Messenger e su Tinder, quindi scrivono, non fanno cadere il discorso oppure ti fanno ulteriori domande per progredire nella conversazione, si interessano a te quello che fai, sono vulcani in piena, quindi vanno a lavorare di tanti messaggi e chiaramente sono ragazze che fanno la prima mossa. Quindi tutto quello che concerne i comportamenti opposti a quelli non interessati, a quelli che ti ho appena detto, possono essere considerati indicatori di interesse da tenere a fare tuoi chiaramente e da utilizzare poi di conseguenza, no? Quindi chiedendo magari il numero e poi l'uscita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.